In ZTE puoi condividere ogni prova con un link diretto. Vediamo come si fa. Per prima cosa, accedi al sito con le tue credenziali MyZanichelli. Una volta dentro, cerca la prova che ti interessa inserendo materia, autore e titolo. Infine, clicca su Cerca. Ti appariranno tutte le prove relative al libro che hai cercato, sia in versione allenamento che in versione verifica. Clicca su questo pulsante in corrispondenza della versione allenamento o della versione verifica. Ti apparirà il link da copiare e condividere con la tua classe dove vuoi. Oppure condividi l'indirizzo direttamente su Microsoft Teams o Google Classroom. Se invece vuoi condividere una verifica creata da te, vai su Crea le tue prove e clicca su Inizia. Vai su Le tue prove e seleziona quella che hai deciso di assegnare. Infine, clicca sul tasto Link in basso e copia l'indirizzo per condividerlo con la classe. Come per le prove già pronte, puoi condividere l'indirizzo attraverso Google Classroom. Scegli un corso, scegli Crea compito e fai clic su Vai. Dai un titolo alla verifica, scrivi le istruzioni e poi fai clic su Assegna. La tua prova sarà visibile sulla bacheca di Classroom. Allo stesso modo, clicca sul pulsante Microsoft Teams. Seleziona Crea un'assegnazione, scegli una classe. Dai un titolo e scrivi le istruzioni. Infine, clicca su Assegna. ZTE. Meno tempo per correggere, più tempo per insegnare.